Torniamo a parlare del conflitto in Ucraina con la possibile presa di Bakhmut da parte dell'esercito russo e la ventilata soluzione coreana. Parliamo anche di incendi, di quello tragico che ha coinvolto un campo profughi Rohingya in Bangladesh e del report sulle emissioni legate agli incendi nel mondo nel 2021 e infine dell'impatto ambientale della filiera del collagene. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 7 marzo 2023 e questo è una mia rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Molti giornali raccontano negli ultimi giorni di un fronte specifico della battaglia, della guerra in Ucraina, ovvero quello che ruota attorno alla cittadina di Bakhmut. Bakhmut è una piccola città dell'Ucraina orientale su cui da mesi si concentrano gli sforzi militari della Russia. Al momento sembra essere circondata su tre lati e negli ultimi giorni si è cominciato a parlare abbastanza apertamente, per la prima volta, della possibilità che l'esercito ucraino si ritiri dalla città. Secondo l'Institute for the Study of War, citato dal Post, è probabile che l'esercito ucraino decida di mettere in atto una ritirata di combattimento, ovvero che decida di arretrare lentamente, cercando al tempo stesso di infliggere più perdite possibili all'esercito russo. L'assalto dell'esercito russo contro Bakhmut, secondo quanto appunto riportato da questi giornali, è compiuto infatti da reclute considerate inesperte e quindi secondo molti analisti militari, le perdite affrontate per conquistare la città sono e saranno più alte da parte dei russi. Comunque, al di là di tattiche e dettagli, come mai questa cittadina è ritenuta così importante, ovviamente visto che se ne sta parlando tanto sui giornali, la Russia sembra aver profuso uno sforzo molto grande per conquistarla, l'Ucraina al tempo stesso sta resistendo e fin qui non ha mai parlato appunto di ritirata, non inizia a parlare adesso dopo mesi che ha tentato insomma di tenerla. Ha una valenza strategica particolarmente importante? In realtà a quanto pare non tanto, sì e no, o meglio è una valenza più simbolica che strategica. Vi leggo qualcosina per farvi capire di cosa stiamo parlando, sia dall'articolo del post che da quello di Pierre Raschie su France Inter tradotto su Internazionale. Scrive il post, Oltre che militarmente azzardata, un'eventuale conquista russa di Bakhmut sarebbe anche strategicamente poco rilevante. La cittadina si trova sulla strada che porta alle più importanti città ucraine di Sloviansk e Kramatorsk e dunque è un passaggio obbligatorio se l'egerso russo vuole avanzare, ma non ha particolare valore strategico. Inoltre, come ha detto al New York Times, una analista militare, la realtà è che se i russi infine conquisteranno Bakhmut, staranno conquistando delle rovine. È una cittadina con un'importanza strategica minima e senza infrastrutture ancora in piedi capaci di sostenere una forza di occupazione. Che i russi abbiano investito così tanto per conquistarla, dice molto della loro scarsa strategia in guerra. Nonostante questo, la conquista di Bakhmut potrebbe essere per la Russia la prima vittoria in mesi di guerra e avrebbe probabilmente un grosso valore simbolico. Qui viene data una lettura molto critica nei confronti della strategia russa. Devo dire che su questo specifico aspetto il post a volte mi sembra un po' troppo critico, non dico a livello di, insomma, stare nel giusto o nello sbagliato, ma proprio a livello di strategia militare nei confronti di quella adottata dalla Russia che poi nei fatti spesso si è rivelata meno scarsa, meno amatoriale di come veniva dipinta. Comunque vi leggo anche invece un pezzetto dell'analisi di Pierre Rasky su Internazionale che afferma che in una guerra destinata a durare, come lo è quella in Ucraina, spesso alcune battaglie assumono una dimensione che va oltre la loro reale importanza. Ne è un esempio lo scontro in corso a Bakhmut, una città oggi in rovina situata nell'est dell'Ucraina. La conquista di Bakhmut, annunciata come imminente dai russi insieme al possibile ritiro degli ucraini, ha ormai un carattere simbolico più che strategico, quindi vedete come le analisi siano abbastanza allineate. Il prezzo per la vittoria, così come quello pagato dagli ucraini per difenderla a ogni costo, è enorme, eppure al momento nessuno può dire quale sarà l'impatto reale della battaglia sul proseguimento della guerra. Più avanti, Rasky si chiede perché Bakhmut è diventata così importante? Per capirlo bisogna tenere presente che in questo momento sono in corso due guerre, la prima oppone i difensori ucraini agli invasori russi, mentre la seconda è interna al fronte russo. Da una parte abbiamo i soldati della compagnia militare privata Wagner e il loro capo Evgeny Prigotsin, dall'altra l'esercito regolare guidato dal capo dello Stato Maggiore Valery Gerasimov. Insomma, secondo il giornalista francese, la conquista di questa cittadina, e questo è il pezzetto in più che aggiunge a questo articolo, potrebbe essere importante non solo a livello simbolico verso il mondo, ma anche a livello interno, cioè nella guerra, nel fronte interno che si sta combattendo all'interno dell'esercito russo, fra le forze armate regolari e la ormai celebre compagnia privata fatta di mercenari Wagner, perché c'è un po' una sorta di faida appunto su un posizionamento anche nei confronti di Putin, del Cremlino e di quanto potere ognuno riesce ad acquisire attraverso le proprie azioni militari. Intanto apprendo da un editoriale in video di Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, che negli Stati Uniti, negli ambienti vicini al Pentagono e all'amministrazione, sta prendendo piede un'ipotesi, e al momento questo è un'ipotesi, quindi prendiamola per quello che è, chiamata soluzione coreana. A parlarne è stato lo storico americano Stephen Kotkin, autore di una monumentale biografia di Stalin e anche considerato molto influente, oltre che esperto di questione russa, negli ambienti istituzionali, in un'intervista al New Yorker, periodico progressista, che è piuttosto vicino alle posizioni dell'amministrazione Biden. Il che fa pensare che, appunto, non sia una roba buttata lì a caso, ma che possa avere una sua rilevanza. In cosa consisterebbe questa soluzione coreana? Come spiega Caracciolo, e come dice il nome stesso, l'idea trae spunto da come venne gestita la guerra in Corea, scoppiata nel 1950, durata tre anni, e conclusosi nei fatti nel 1953, con americani e cinesi, principalmente, che dopo un bagno di sangue capiscono che non possono andare molto oltre o avanzare particolarmente, e indicano una tregua, con tanto di linea smilitarizzata che divide le due Coree, tregua che nei fatti dura ancora oggi, anche se era stata presentata come una tregua temporanea. L'idea della soluzione coreana per l'Ucraina è stata lanciata, in realtà, qualche mese fa, da un ormai centenario Henry Kissinger, che appunto a maggio compirà cento anni, un repubblicano doc, quindi, che però, idea che però sembra iniziare a convincere, anche l'ala più progressista. Questo tipo di approccio prevede di dividere i contendenti e tracciare una linea sul fronte, che di fatto coincide con il posizionamento delle forze in campo in quel momento, nel momento in cui si sigla questa tregua, e di mantenere poi questa linea a tempo indeterminato. Quindi, in questo caso, se lo facessimo in questo momento specifico, significerebbe che circa i quattro quinti dell'Ucraina resterebbero nell'Ucraina, quindi fortemente legati e connessi all'Europa, mentre la porzione del Donbass e la Crimea, attualmente occupata dalla Russia, dall'esercito russo, quindi circa il 17-20% del territorio, lo stesso che nei fatti è già in guerra dal 2014, resterebbe controllato dalla Russia. In questo caso, i quattro quinti dell'Ucraina resterebbero fortemente connessi all'Europa, mentre la porzione del Donbass e la Crimea, circa il 17-20% del territorio, lo stesso poi che nei fatti è in guerra dal 2014, resterebbe invece controllato dalla Russia, o finirebbe controllato dalla Russia, dal punto di vista da cui lo si guarda. Vediamo chi potrebbe avere vantaggi da questa soluzione, innanzitutto, o quali vantaggi potrebbe avere? Ecco, innanzitutto ha il vantaggio di poter essere presentata come provvisoria, quindi di poter lasciare tutti un po' scontenti, come li lascerebbe effettivamente, ma di rendere questo scontento accettabile in virtù di una proclamata provvisorietà, che poi magari appunto diventa permanente, ma non è niente di siglato, niente di ufficiale, non c'è un patto vero e proprio. Al tempo stesso permetterebbe alle due parti di respirare, ma perché invece gli Stati Uniti sarebbero così pronti, così intenzionati, così favorevoli a questo tipo di iniziativa, a questo tipo di compromesso. Secondo Kotkin, quindi lo storico di cui vi parlavo prima, la motivazione principale è che gli Stati Uniti non hanno voglia di continuarla, questa guerra, e non hanno nemmeno i mezzi per continuarla, i mezzi materiali, le munizioni, le armi, perché si parla di una produzione americana di circa 15.000 proiettili di artiglieria all'anno, con l'Ucraina che invece ne consuma 90.000, ne ha consumati circa 90.000 in questo primo anno di conflitto, di questi 90.000 circa 30.000 li fornisce l'Europa, gli altri, più o meno a spanne, gli saranno arrivati dagli Stati Uniti. E se la situazione continua così, ovviamente ci sono 45.000 proiettili in più rispetto alla produzione americana, e questo vuol dire che gli Stati Uniti stanno svuotando i propri magazzini, proiettili più, proiettili meno. Inoltre questa guerra, nell'ottica di Washington, vi riporto sempre le dichiarazioni di Kotkin nella sua intervista, riportate da caracciolo, quindi un po' una fonte che ha fatto vari salti, ma cerco di essere il più fedele possibile. Dicevo, questa guerra, nell'ottica di Washington, è ritenuta secondaria rispetto al conflitto principale, che è quello con la Cina. Il confronto vero e proprio oppone Stati Uniti e Cina, e si risolve a Taiwan. Quindi gli Stati Uniti hanno un piano preciso per armare Taiwan, piano che sta subendo molti ritardi per via del conflitto in Ucraina. Caracciolo parla di un ritardo di 4 anni sulla tabella di marcia, dato che non sono riuscito né a verificare, ma né soprattutto a comprendere, perché non so come in un anno di conflitto si possano accumulare 4 anni di ritardo, a meno che non si riferisse all'inizio, il conflitto precedente, quello in Donbass, non lo so, però ve lo dico per quello che forse è anche un errore fatto nel parlare, è possibile. Comunque, tornando al punto, applicare la soluzione coreana significherebbe per gli Stati Uniti riconoscere anche, dal punto di vista proprio dell'amministrazione, che Taiwan è più importante del Donbass, e che adesso invece stanno impiegando molte più risorse per difendere il Donbass, drenandole proprio alla difesa di Taiwan, che strategicamente è più centrale per gli Stati Uniti. Ovviamente ci sono anche diverse criticità e limiti a questo piano, ammesso che sia un piano, perché appunto, vi ripeto, stiamo parlando di cose molto ipotetiche. Innanzitutto sarebbe difficile presentare questa soluzione come una vittoria dell'Ucraina, cosa che potrebbe imbarazzare Washington dopo tutti i proclami fatti. Inoltre, oltre all'instaurarsi di un confine provvisorio e di una fascia smilitarizzata, cosa già abbastanza complessa, ci dovrebbe essere qualche forma di garanzia internazionale che stia al di sotto del livello della NATO. Cioè, difficilmente la NATO scenderebbe in campo direttamente, ad esempio annettendo quello che resta dell'Ucraina al suo interno. Piuttosto, la cosa più probabile, secondo quest'analisi, è che l'Ucraina possa essere annessa senza negoziati all'interno dell'Unione Europea. Cosa che però è molto distante da come avvengono attualmente gli ingressi nell'Unione. Cosa perché avvengono con negoziati che durano molti anni, a volte decenni, e ci sono un sacco di controlli, controlli molto stringenti su tanti aspetti su cui l'Ucraina, fra l'altro è carente, tipo la corruzione, tipo la trasparenza nei dati. Inoltre, fare entrare l'Ucraina in Europa, per l'Europa, significherebbe anche che sarebbe principalmente l'Unione a farsi carico della ricostruzione del paese, e questa cosa potrebbe creare qualche malcontento, soprattutto in alcuni paesi che hanno una situazione, ad esempio, di debito pubblico, senza fare nomi, abbastanza difficile. Ecco, questo è il quadro. Considerate che è ancora fantapolitica, ve lo dico di nuovo perché non vorrei che poi magari uno pensa che è una roba già fatta, sono solo idee che si fanno strada nella realtà. Il che però, conoscendo la potenza delle idee nella nostra specie, non è una roba da poco, ma appunto siamo ben lontani da uno scenario pratico, applicativo, concreto, di una formula del genere. Non ho un commento particolare su questa cosa, non so dire se è uno scenario positivo o negativo, o banalmente che mi piace o che non mi piace, devo capirlo meglio e devo capire anche quali sono le alternative, perché poi ogni cosa si posiziona anche rispetto a quello che gli sta attorno. Vi condivido solo una frase particolarmente interessante, o perlomeno che mi ha colpito molto nel video di Caracciolo, che a un certo punto dice molto spesso le guerre finiscono con dei compromessi sporchi, più che con delle paci giuste e contrattualizzate. Mi ha colpito e mi è sembrato in qualche modo attuale, soprattutto in un momento in cui le posizioni dei due attori principali, o tre o quattro, quanti siano, sono molto distanti, è difficile pensare a un accordo di pace che possa accontentarli in qualche modo. E quindi questa cosa mi ha fatto riflettere. Va bene, cambiamo radicalmente argomento e parliamo di incendi. Ci sono due notizie legate agli incendi che stanno toccando in maniera abbastanza tangenziale alcuni giornali, ma che mi sembrano entrambe importanti, anche se molto diverse fra loro. La prima è un fatto di cronaca tragico e ve lo riporto nelle parole di Valentina Neri sul LifeGate. Nella giornata di domenica 5 marzo, per cause ancora da accertare pienamente, un incendio è divampato in un campo profughi a Cox's Bazar, nel golfo del Bengala, in Bangladesh. Per ora non si segnalano decessi, circa 12.000 persone però di etnia Rohingya non hanno più un posto in cui stare. I Rohingya, scrive ancora l'articolo, sono un gruppo etnico di religione musulmana che si è insediato fin dal VII secolo a Rakhine, stato birmano che confina a nord proprio con il Bangladesh, sono considerati fra i popoli più negletti e perseguitati della storia. Il Myanmar infatti li rifiuta, privandoli di diritti fondamentali come quello di curarsi negli ospedali e andare a scuola, possedere dei terreni. Questo fra l'altro ve lo posso confermare perché sono stato in Myanmar anni fa, prima del colpo di Stato, e pur sotto la giunta guidata da Aung San Suu Kyi, forse, insomma, ve la ricorderete, ha vinto anche un premio Nobel per la pace, quindi non una persona, cioè la persona che si considera abbia democratizzato il Myanmar, forse per via sicuramente di qualche compromesso con la giunta militare alla quale si era in parte sostituita, continuavano però ad essere perseguitati. Addirittura nel 2017 l'esercito birmano ha messo in atto un vero e proprio massacro costringendo circa un milione di Rohingya a scappare in Bangladesh. Si sono rifugiati proprio nella zona di Cox's Bazar dove tuttora vivono in condizioni precarie e anche in termini di diritti civili la situazione non è poi troppo migliore rispetto a quella subita in patria perché sono sottopagati, vittime di caporalati, non possono aprire scuole in autonomia, eccetera, eccetera. La BBC fa sapere, vi torno sull'articolo di LifeGate, che la polizia bengalese sta indagando sulle cause dell'incendio che si è rapidamente diffuso attraverso le bombole del gas delle cuscine. Nell'arco di circa tre ore è stato domato ma aveva già raso al suolo circa 2000 abitazioni ovviamente parliamo di abitazioni molto precarie. Si trattava di strutture precarie ecco, l'ho detto inutilmente perché lo diceva l'articolo subito dopo costruite con bambù e teloni distrutti anche luoghi di culto, centri educativi, piccole attività commerciali. un rappresentante della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha spiegato alla BBC che sono stati segnalati danni anche a infrastrutture idriche e altri servizi di base. Non si tratta fra l'altro del primo episodio di questo tipo perché fra il mese di gennaio del 2021 e il mese di dicembre del 2022 quindi in poco meno di due anni, anzi in due anni pieni, sono stati accertati 222 incendi nei campi rokinja, decine dei quali di origine dolosa. In questo caso non lo sappiamo ancora come dicevamo all'inizio. Fra i più gravi c'è quello di marzo 2021 con 15 morti e 50.000 sfollati. Quindi non è un evento raro, non è un evento nuovo, anzi è qualcosa che di tragicamente ricorrente. Fra l'altro vi segnalo che la Mezzaluna Rossa che abbiamo citato poco fa è la stessa organizzazione di cui ci parlava Federico Venturini, ricercatore esperto della questione kurda nella puntata di io non mi rassegno più proprio sul Kurdistan e ce la citava fra quelle meritevoli di una donazione, in quel caso la donazione era riferita al sostegno alla popolazione colpita dal terribile terremoto fra Siria e Turchia ma lo stesso vale per questa situazione. Quindi ecco, se volete aiutare queste persone quello è sicuramente un buon modo per farlo e tangenzialmente vi ricordo anche che se non l'avete ancora ascoltata e siete abbonati all'Italia che cambia, c'è la puntata di Io non mi rassegno più sul Kurdistan uscita circa due settimane fa in cui si vanno a indagare appunto si scava un po' nei meandri la questione kurda per raccontare tutte le cose terribili ma anche gli incredibili esempi virtuosi portati avanti da questa popolazione. la seconda notizia sugli incendi non è invece un fatto di cronaca ma un report un report sulle emissioni di CO2 collegate agli incendi nel 2021 e c'è un dato molto preoccupante riportato da rinnovabili.it sul fatto che siano cresciute di parecchio si parla nell'articolo del 150% in più di crescita rispetto alla media degli ultimi 20 anni vuol dire due volte e mezzo la normalità se il dato è riportato correttamente perché devo dire che a volte con le percentuali anche i giornalisti e le giornaliste si confondono però non ho verificato di persona vi riporto quello che è scritto sull'articolo comunque non vi sto qui a leggere tutti i dati i vari dati specifici tipo le tonnellate di CO2 emesse in atmosfera perché come al solito sono numeri che ci dicono poco ma mi sembra interessante segnalare che purtroppo il problema degli incendi è uno dei classici esempi di ciclo di ritrovazione positivo dove positivo non sta non è come aggettivo qualitativo ma indica qualcosa che si autoalimenta si autorinforza sarebbe una sorta di circolo vizioso attraverso il quale appunto la crisi climatica si autoalimenta vi spiego come funziona ma immagino abbiate già capito ma ve lo dico per farvi capire il meccanismo di cui parliamo che è solo uno dei tanti più aumentano le temperature e aumentano i fenomeni di siccità più scoppiano incendi che sono più estesi e sono più difficili da contenere questi incendi a loro volta bruciando alberi emettono CO2 in atmosfera questa CO2 va a alimentare ancora di più la crisi climatica che causa ancora più siccità e così via in un circolo difficile da controllare ora i cicli di retroazione positivi detti anche feedback loop o cose di questo genere sono il motivo per cui uno dei motivi per cui dobbiamo essere velocissimi nel decarbonizzare la società prima che questi fenomeni vadano completamente fuori controllo e capite che lo possono fare e quindi prima che la nostra capacità di contenerli non diventi praticamente nulla e questo prima è adesso non sappiamo esattamente quando sia il momento però direi che adesso potrebbe essere il momento buono per iniziare a accelerare su questo fronte un'altra cosa che dovremmo fare abbastanza in fretta e veniamo all'ultima notizia del giorno è fra le tante è liberarci del collagene il perché lo spiegano Elisange la Mendoza Andrew Wasley e Fabio Zucker sul Guardian in un'inchiesta e inchiesta in cui dicono decine di migliaia di bovini allevati in fattorie che danneggiano le foreste tropicali del Brasile vengono utilizzati per produrre collagene l'ingrediente attivo degli integratori per la salute al centro di una mania globale per il benessere i legami fra la carne di manzo e la soia e la deforestazione in Brasile sono ben noti ma poca attenzione è stata data all'industria del collagene in piena espansione il cui valore è stimato in 4 miliardi di dollari vabbè poi l'articolo dice la traduzione in sterline che a noi interessa poco il collagene può essere estratto da pesci maiale e bovini i suoi utilizzatori più evangelici sostengono che la proteina può migliorare i capelli la pelle le unghie e le articolazioni rallentando il processo di invecchiamento oltre che dai marchi di bellezza e benessere viene utilizzato anche dalle aziende farmaceutiche e da quelle che producono ingredienti alimentari tuttavia questa indagine condotta dal Guardian assieme al Bureau of Investigative Journalism al Center for Climate Crime Analysis e da ITV e da altre organizzazioni non vi faccio l'elenco perché mi sto accorgendo che sono molte ha scoperto che lo stesso bestiame che viene allevato nelle stesse fattorie che causano la deforestazione viene lavorato in mattatoi che servono anche le catene internazionali di fornitura del collagene parte di questo collagene è riconducibile a fra l'altro la più grande società di proprietà della Nestlé che si chiama Vital Proteins che è il più grande o uno dei principali produttori in realtà di integratori di collagene bovino al mondo così lo definisce l'articolo la gamma di collagene di Vital Proteins è venduta in tutto il mondo compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito e ci sono due cose interessanti che secondo me vanno evidenziate la prima è che appunto il Guardian sottolinea come sebbene esistano studi che suggeriscano che l'assunzione di collagene per via orale possa migliorare la salute delle articolazioni della pelle e di altre mille cose la Harvard School of Public Health avverte che esistono diversi potenziali conflitti di interessi in questi studi poiché la maggior parte delle ricerche se non tutte sono finanziate dall'industria o condotte da scienziati ad essa affiliati quindi insomma antenne alzate la seconda cosa interessante si fa per dire è che le aziende produttrici di collagene non hanno l'obbligo di monitorare l'impatto ambientale a differenza di quelle di manzo soia olio di palma e tanti altri prodotti alimentari in questo senso il collagene non è coperto neanche dalla legislazione sulla due diligence di cui parlavamo qualche settimana fa legislazione che verrà adottata nell'Unione Europea e nel Regno Unito per contrastare la deforestazione questo perché il collagene viene descritto e considerato come un sottoprodotto dell'industria del bestiame sottoprodotto che quindi non è il motivo principale per cui si allevano bovini ma c'è un grosso ma l'industria del bestiame in Brasile è responsabile di circa l'80% di tutta la perdita ad esempio della foresta amazzonica questo sottoprodotto sta assumendo un'importanza sempre più rilevante nella fetta di ricavi di questa industria e collagene insieme alla pelle del bestiame sono i due sottoprodotti fra virgolette che stanno aumentando di tanto negli anni la loro percentuale sui ricavi e quindi insomma concludendo oltre a rimarcare a rimarcare come la domanda di carne sia collegata alla deforestazione quando ne parliamo forse dovremmo iniziare a parlare di domanda di carne di pelle e di collagene perché le tre cose sono abbastanza collegate quindi non è detto che una domanda un calo della domanda di carne da sola possa causare una crisi sufficiente di queste grosse industrie ormai sono delle multinazionali che allevano e macellano bovini quindi in attesa di legislazioni e interventi più strutturali più sistemici possiamo però intanto iniziare a ridurre il più possibile questa domanda partendo appunto come sempre dai nostri acquisti detto ciò io direi che ci possiamo salutare qua io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre a partire dalle 8 sui canali youtube speaker e spotify nonché sulla pagina rassegna stampa del cambia.org state bene fate i bravi non usate il collagene e ricordatevi che chi si rassegna è perduto che si rassegna